Io credo che nessuno di noi sia infallibile, che dal confronto possa sempre nascere Amici, ma venite qua, con calma, con calma, non c'è da agitarsi o da scaldarsi Non c'è da agitarsi o da scaldarsi Credo che sia diritto mio, vostro, dire come la pensiamo, parlare E magari, forse sarebbe anche buono che voi ascoltasse le proposte Perché ascoltare le solite proposte da 70 anni E allora resta i soliti da 70 anni Si è ridotto così, si è ridotto così E allora la giornata, forse, è democrazia La giornata è il miglioramento La giornata è il futuro Io ci tornerò, parlerò con loro Io sono convinta che loro, alla fine della campagna elettorale, mi voteranno